Akash Kumar vita privata, età e carriera del modello concorrente di Ballando con le stelle Akash Kumar è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2018. Quando è stato annunciato il suo nome, in molti si saranno chiesti chi fosse. In effetti non tutti ne hanno sentito parlare ma sicuramente il programma gli darà una grande visibilità. Cerchiamo quindi di scoprire alcuni dettagli sulla vita privata e la carriera di questo modello dai capelli scuri e ricci e gli occhi di ghiaccio. Ciò che è certo è che sicuramente il pubblico femminile ne apprezzerà la presenza e chissà che non ci sappia fare anche nel ballo a Akash Kumar uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, vita privata, età, caratteristiche fisiche e carriera del modello indiano Akash Kumar età e caratteristiche fisiche il modello concorrente di Ballando con le stelle è nato nel 1991 e da quindi 27 anni. E' alto 1,88 metri e pesa 76 kg. A spiccare dal punto di vista fisico sono sicuramente i suoi occhi di ghiaccio ipnotici che risaltano ancora di più grazie ai suoi capelli neri e ricci. Il suo ass dipende dalle sue origini che sono, oltre che indiane, anche brasiliane, AKASHKUMARL e sua carriera e i suoi sogni Akash Kumar vive in Italia tra le città di Milano e Verona. Il suo lavoro lo porta però spesso all'estero. Dal suo profilo Instagram si possono notare diversi set fotografici a cui ha preso parte, ma i dettagli sul suo lavoro sono ancora poco conosciuti. Sicuramente la partecipazione a Ballando con le stelle gli darà la possibilità di farsi notare e conoscere dal pubblico italiano. AKASHKUMAR Vita Privata e Fidanzato, le donne si staranno chiedendo se questo ragazzo sia fidanzato o meno. Non si hanno dichiarazioni ufficiali del modello dagli occhi di ghiaccio. Se si cerca sul profilo Instagram, non compare alcuna donna al suo fianco e questo fa presumere che al suo fianco attualmente non ci sia nessuna fidanzata. LA Partecipazione a Ballando con le stelle 2018 Il modello ha deciso di accantonare per un po' fotografie sfilate per entrare a far parte del mondo della TV. Il programma a Ballando con le stelle è un buon trampolino di lancio e sicuramente il modello AKASHKUMAR ha tutte le carte in regola per spiccare e trarre il massimo da questa partecipazione. Non ci resta di attendere dunque l'inizio del programma per scoprire come il modello saprà muoversi sulla pista da ballo e soprattutto per capire se riuscirà ad entrare nel cuore degli italiani.